Il Bacchelli è storicamente l'istituto per geometri della città di Tremure. Ci sono due articolazioni, quella di costruzione ambiente e territorio e quella di costruzione ambiente e territorio di articolazione geotecnico. Ho scelto questa scuola perché credevo che mi potesse dare un'occasione di diventare un futuro geometra. Al termine di questi cinque anni avrei possibilità di trovare lavoro presso degli studi di geometri oppure potrei fare due anni di predicantato e quindi avere la firma per geometra oppure frequentare l'università. La collaborazione con il Collegio dei Geometri è oramai consolidata. Abbiamo anche una buona collaborazione nell'ambito dell'alternanza scuola buona. La scuola ti offre la possibilità concreta di imparare un lavoro attraverso gli stage, i vari studi di geometri. Questo è un laboratorio dove si fanno prove tecnologiche sui materiali utilizzati nell'edilizia. Questo laboratorio esiste dal 1984 ed è autorizzato su concessione del Ministero dei Lavori Pubblici e vengono rilasciati i certificati di qualità appunto dei calcestruzi e degli acciai utilizzati nei cantieri. I ragazzi di terza e quarta, quando affrontano l'argomento delle costruzioni, fanno delle esperienze sul laboratorio sulla resistenza meccanica degli acciai e dei calcestruzi. Secondo me andrebbero migliorate le ore di laboratorio che andrebbero aumentate e andrebbe fatto cercare di fare più pratica e sfruttare tutti i laboratori che abbiamo. Ci stiamo impegnando molto nella certificazione esterna. Parlo di, fate infine proprio per la computer CDN, parlo del cambio, che è l'ambito più professionale, e anche le certificazioni linguistiche sono riconosciute internazionalmente e quindi le promuoviamo come scuola e le inseriamo poi nel titolo di diploma. Dopo questa scuola ho intenzione di andare all'università per in un futuro diventare o architetto o ingegnere.